buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 26 maggio 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi perché è un santo veramente famoso ed è particolarmente attuale è un santo simpatico devo dire è san filippo neri san filippo neri un angelo nella roma nella roma di una roma pontificale violenta povera quella del sedicesimo secolo siamo in pieno rinascimento e anche l'opera compiuta da san filippo con l'istituzione dell'oratorio e il suo amore soprattutto per i giovani può considerarsi veramente una rinascita una rinascita della fede una fede semplice ma fortemente radicata tanto che l'opera di filippo è particolarmente attuale ancora oggi e allora come si può concludere questo piccolo quadretto con state buoni se potete vediamo le previsioni del tempo il sole oggi brilla sul territorio delle marche ma ci saranno anche qualche nube qualche nube in regolare qualche nube che potrà sfociare in isolati piovaschi diurni specialmente nell'entroterra sulla pennino le temperature sono presa poco come quelle di ieri 16 la minima 23 la massima i venti sulle coste spirano da nord ovest nell'entroterra da nord e il mare leggermente mosso questo è un po' un quadro per quanto riguarda l'andamento del tempo ed ora apriamo il giornale sulla pagina di Fano vediamo il Corriere Adriatico e apriamo con l'evento che inaugura la stagione turistica ovvero il Brodetto Fest e il Festival del Brodetto che quest'anno è stato anticipato rispetto agli anni scorsi quando veniva organizzato nel mese di settembre quest'anno invece aprirà il mese di giugno si svolge infatti al Lido di Fano dall'1 al 4 giugno ed è una manifestazione importante perché ha diversi elementi preziosi ovvero quello della trazione turistica prima di tutto quello della valorizzazione dell'enogastronomia tipica fanese ma anche quello di così porre all'evidenza in evidenza i problemi della pesca soprattutto per quanto riguarda quel provvedimento che ha lo studio dell'Unione Europea che tenta di dire stop alla pesca a strascico veramente una decisione che potrebbe mettere in difficoltà alcuni equipaggi fanesi vediamo subito il titolo comunque il Brodetto Fest anticipa l'estate la zuppa marinara ispira gli chef sono veramente degli chef stellati che si alterneranno in queste quattro giornate con cooking show e poi ci saranno anche dei dibattiti degli incontri dei laboratori per così evidenziare le peculiarità di questa cucina marinara presentata l'iniziativa ieri dai vertici della Confesercenti che è l'organizzazione che organizza la festa e c'è stato anche l'onorevole Mirko Carloni che è presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che ha rilanciato l'allarme per lo stop alla pesca a strascico ha detto occorre sensibilizzare innanzitutto i diretti interessati che sono i pescatori ma poi anche l'opinione pubblica perché c'è il rischio ha detto che i prodotti del nostro mare possano scomparire dal mercato ed essere rimpiazzati da altri provenienti da paesi che non seguono le nostre stesse regole proprio quelle che i pescatori italiani rispettano da sempre servono quindi politiche di settore così come eventi come il Brodetto Fest che mettono al centro la pesca ed è un'iniziativa questa che anche il Comune di Fano persegue da tempo c'era anche l'assessore al turismo Etienne Lucarelli che è un po' il padre della Fano Marinara, della Fano Gastronomica fonti di attrazione turistica che puntano la propria attenzione sul porto e sulla flottiglia peschereccia 53 gli eventi in programma in 4 giorni per il Festival del Brodetto ci sono dicevo oltre gli chef stellati personaggi televisivi importanti ci sarà anche Roberto Giacobbo il conduttore di Freedom ci sarà anche l'esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini e poi Peppe Vessicchio il direttore d'orchestra di Sanremo insomma ci saranno anche persone e ci sarà anche una piccola parentesi per i bambini a cui fornirà la propria esperienza e la propria simpatia devo dire anche il professor Corrado Piccinetti che di pesce veramente è una miniera di conoscenze veniamo alle altre notizie a fondo pagina abbiamo una presa di posizione dell'assessore al bilancio del Comune di Fano Sara Cucchiarini che rassicura l'opinione pubblica in merito a tutte le precauzioni che verranno assunte dall'amministrazione comunale per tutelare gli investimenti sia sull'interquartieri che sulla biblioteca federiciana la Giunta sta adottando le giuste cautele rispetto a due partite importanti come il completamento della strada interquartieri e la nuova biblioteca federiciana così l'assessore si è espressa sono due importanti investimenti questi che saranno approvati nella prossima seduta del Consiglio Comunale in programma martedì prossimo quando verrà in discussione l'ordine del giorno per le modifiche al bilancio preventivo della stessa Giunta ed ora una notizia di cronaca che acquista largo spazio sui giornali questa mattina per la giovane età degli imputati perseguitato da una baby gang ragazzino rapinato e picchiato le vessazioni duravano da due anni arrestato un diciannovenne ritenuto il capo della banda denunciati anche due minori l'accusa è rapina aggravata dall'uso di armi sequestro di persona aggravato atti persecutori e lesioni aggravate ai danni di un minorenne sono veramente pesanti le accuse che sono state levate nei confronti di un ragazzino anche lui 19 anni che ora era inchiuso nelle carceri di Villa Fastigi a Pesaro il diciannovenne è considerato dai carabinieri di Colli al Metauro il capo di una baby gang una banda di giovani che avrebbe tiranneggiato per circa due anni un ragazzo diciassettenne in una progressione di minacce soprusi culminata dal percorso addirittura veniva minacciato con una pistola ad aria compressa che insomma può causare anche delle lesioni ebbene una vicenda brutta perché coinvolge ragazzini di giovane età che hanno già invocato una strada violenta e nella perquisizione della casa appunto del diciannovenne sono state trovate due pistole modello Glock ad aria compressa una delle quali probabilmente era quella che è stata usata per le minacce un'altra notizia di cronaca a fondo pagina sulla seconda pagina del Corriere dedicata a Fano riguarda invece una vicenda sfondo sessuale ebbene è un fanese che aveva stabilito un rapporto con una escort per una prestazione sessuale aveva così combinato il prezzo poi quando la ragazza, una romena di vent'anni si è presentata appunto nel locale stabilito voleva di più, voleva 300 euro il suo cliente si è rifiutato di pagare la ragazza lo ha minacciato dicendo che avrebbe detto che l'avrebbe violentata in più si è fatto assistere da due spalleggiatori da due uomini che hanno intimato e hanno minacciato il cliente al fine di riscuotere i soldi quest'ultimo però ha chiamato la polizia i tre sono fuggiti invece sono stati raggiunti dopo un inseguimento particolarmente veloce attraverso le strade ed ora sono finiti in tribunale ieri la donna è stata condannata a tre anni mentre i due guardi a spalla a meno di tre anni davanti al collegio del tribunale di Pesaro insomma è finita male per loro vediamo ora la notizia la manifestazione principe possiamo dire di Fossombrone che è quella del trionfo del carnevale trionfa il carnevale storico ma il cuore batte per il paglio forse è uno degli spettacoli più avvincenti più suggestivi che si svolge all'interno di questa manifestazione c'è tutto il programma oggi la sfilata rinascimentale poi le competizioni con i birocini e a cavallo ebbene si respira aria di grande attesa fin da questa mattina a Fossombrone per la rievocazione del trionfo del carnevale dopo il primo appuntamento culturale introduttivo del 23 maggio scorso con la presentazione del libro Io sono Aula storie di banchetti alla mia corte di Nicoletta Tagliabracci alle 18.30 di oggi pomeriggio ci saranno i menu rinascimentali lungo corso Garibaldi via Giganti e via Cesare Battisti alle 19 Rioni, Borghi, Villa e Castella del contado di Fossombrone in festa alle 20 sfilata rinascimentale e a seguire secondo appuntamento culturale nella chiesa di San Filippo una delle più belle chiese veramente barocche delle Marche alle origini del trionfo del carnevale a cura di Renzo Savelli e Lisabetta Rumini e poi alle 22 la giostra dei Bierocini insomma continua questa bella manifestazione che si protrarrà fino a domenica con tanti e tanti spettacoli a Marotta a Marotta si lavora per riparare un po' i danni ambientali che sono stati così effettuati dal maltempo Marotta allestisce spiagge più sicure già disponibili cinque nuovi difibrillatori si pensa soprattutto alla sicurezza alla sicurezza perché? perché? perché negli anni scorsi non sono stati pochi purtroppo gli incidenti che si sono verificati nella costa trafano e Marotta per quanto riguarda malori casi di annegamento che si sono verificati e avere un defibrillatore in spiaggia è molto molto importante grazie all'associazione Bagnini Croce Rossa e Comune ogni 700 metri ci sarà un apparecchio salva vita una cosa tantissimo importante è importante sapere anche dove si trovano questi apparecchi saperli usare tempestivamente e usarli al momento opportuno non è difficile perché poi ci sono tutte le istruzioni adatte per poter salvare una vita vediamo ancora le pagine di Senigallia sul Corriere Adriatico è una notizia di cronaca estorsione ad un commerciante lo spacciatore finisce in trappola voleva 5.000 euro chiedeva appunto 5.000 euro all'appuntamento però quando la sua vittima doveva pagare si sono presentati gli agenti e poi in casa dell'uomo è stata trovata della cocaina in due pacchetti uno da 120 grammi e un altro da 20 grammi di cocaina la droga è stata sequestrata insieme ad un bilancino elettronico di precisione e circa 2.000 euro in contanti tre cellulari che saranno analizzati per capire la rete di clienti del push ovviamente smerciava la droga questo per quanto riguarda le pagine delle fanese ora apriamo anche il Corriere Adriatico per vedere le pagine di Pesaro e vediamo i danni che il maltempo ha provocato nelle strade sono veramente danni ingenti sono 76 le strade franate il conto diventa più salato e la cifra fatta dal presidente della provincia Giuseppe Paolini sale a 25 milioni di euro ebbene ora occorre un tavolo tecnico per pulire i fossi lo ha detto l'assessore Belloni Enzo Belloni ebbene dicevo lo stato di emergenza questa è una buona notizia si estende non solo sulle una buona notizia capita nel giusto senso ovviamente perché poi le buone notizie quando si tratta di stato di emergenza non è che ce ne siano tante però la buona notizia è che venga riconosciuto anche questo stato nelle Marche oltre che nell'Emilia Romagna dove i disastri sono stati molto molto più gravi ebbene la buona notizia è che lo stato di emergenza si estende anche alle Marche e ci rientrano sette comuni dopo il sopralluogo che è stato fatto dalla protezione civile nazionale nel nostro territorio e in questo ambito sono compresi il comune di Pesaro Fano Urbino Sasso Corvaro Auditore Montegrimano Terme Montelabato e Gabice sono stati invece non inclusi Macerata Feltria e Gradara che pure avevano lamentato dei danni per i primi interventi sono stati stanziati 4 milioni di euro un po' di ossigeno ma il bilancio come abbiamo detto si aggrava ebbene serve subito un tavolo tecnico con la regione ha detto l'assessore Belloni perché anche il comune di Pesaro è nelle stesse situazioni di difficoltà come il privato un tavolo traenti che mette a mano al Polizia dei Fossi e tratti i corsi d'acqua e canali di scolo nel giusto senso quindi devono così essere manutenuti in maniera che non si verifichi più quello che è stato fatto ma questa poi è una cosa che purtroppo è difficile da attuare danni danni alle ditte questa ditta per esempio le Rebiplast ha avuto 44 porte le stava realizzando da buttare il magazzino è devastato l'acqua è entrata dappertutto e ha danneggiato tutti i prodotti in lavorazione e poi un grafomane un grafomane che si diverte a deturpare il cimitero di Pesaro al cimitero è tornato l'imbrattatore il presidente Pieri dice è una sfida che offende tutti il presidente di Aspes è la seconda volta in pochi giorni che questo si verifica o ci sta sfidando ha detto Pieri o non si rende conto della gravità del fatto non è tanto per il danno in sé per sé già gli operai sono stati incaricati di cancellare quanto è stato deturpato ma è che si vandalizza un luogo di grande sacralità che esige un triplo rispetto innanzitutto per i difunti poi per i familiari dei difunti e poi perché si tratta di un bene pubblico e quindi poi chi deve ripararlo è il comune e quindi anche qui oppure l'Ase l'Aspes e quindi ovviamente è un danno che si verifica quindi questo è una persona da individuare e da punire Piazzaredi dimenticata nessuno pulisce più è un appello questo della Lega che attacca la giunta anche sulla mancanza di manutenzione è stato segnalata erba alta nella Ivole piantumazioni trascurate pavimentazione sconnessa sporcizia a terra a questo poi si aggiunge il cronico problema della pavimentazione del portico di Piazzaredi per il quale nulla è stato fatto per trovare un accordo tra pubblico e privato per sanare la situazione Tari in regione siamo i peggiori come pesaresi i residenti del comune di Pesaro perché le bollette sono aumentate veramente questa tassa grava pesantemente sulle spalle dei cittadini rincari della bolletta di rifiuti fino al 40% pensate che l'aumento per le utenze domestiche è aumentato del 3,7% mentre per le utenze non domestiche l'importo è aumentato del 6,2% fino all'importo di 40 euro e quindi ecco questo articolo che vede l'opposizione il centro-destra attaccare la giunta per la politica la politica della maggioranza che si limita ad applicare un bonus alle famiglie ma in realtà poi l'aumento è esteso a tutti la spiaggia contesa ceduta sotto prezzo scontro tra i re di famiglia condannata un anno e tre mesi a padre figlio nipoti dovevano rispondere di abuso d'ufficio e di falso vediamo anche la pagina di Urbino abbiamo un intervento dell'assessore Elisabetta Foschi che evidenzia la presenza della nuova risonanza magnetica all'ospedale di Urbino una risonanza che potrà limitare la mobilità passiva prenotazioni degli esami ora riapriamo le agende ci sono stati dei tempi un po' lunghi devo dire la verità per avere questo successo ora però si potranno aprire le agende e procedere subito con la calendarizzazione degli esami anche per persone che non sono ricoverate in ospedale quindi coloro che hanno bisogno degli esami prescritti dal medico di base o dal medico specialista ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico passiamo al resto del Carlino la cui apertura è dedicata ai lavori che si stanno compiendo in Viale Dante a Liglieri in Sassonia lavori contestati dai residenti perché hanno comportato l'eliminazione di tutta una parte di parcheggi al lato della careggiata dove è stata realizzata una pista ciclabile Viale Dante Liglieri avanti tutta con i progetti e i lavori partita l'altro ieri l'asfaltatura l'assessore Brunori conferma la ciclabile e il percorso pedonale che era stato attuato in via sperimentale ora la cosa invece diviene definitiva dissuasori e segnalatori invece a Rosciano per quanto riguarda il problema della rotatoria di via Moriconi dal mare alla periferia il comune cerca di arginare le proteste accogliendo le richieste dei residenti e quanto veramente sta accadendo a Sassonia in Viale Dante Liglieri e a Rosciano appunto in via Moriconi l'assessore Brunori rassicura la pista ciclabile non è in discussione quindi è stata ormai approvata e così rimane il percorso pedonale sarà protetto e pavimentato buone notizie anche sui parcheggi afferma l'assessore i tecnici stanno verificando la possibilità di utilizzare due spazi verdi nella zona uno pubblico e uno privato che assicurerebbero un numero significativo di posti auto rispondendo così alle esigenze dei residenti l'assessore aveva promesso che i posti auto che aveva soppresso al lato della strada dove è stata realizzata la pista ciclabile sarebbero sarebbero stati recuperati altrove e così sembra il giornale però ancora non dice dove questi due spazi verdi si trovano comunque lo sapremo tra breve e poi vediamo un articolo che riguarda la nomina del nuovo vescovo si tratta di Andrea Andreozzi e siamo veramente in attesa dell'arrivo del nuovo presule che sarà nominato vescovo domenica 18 giugno riceverà l'ordinazione episcopale nel duomo di fermo per l'imposizione delle mani da parte di Monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di quella diocesi una cerimonia solenne questa si terrà anche alle 17 nella cattedrale di Santa Maria Assunta una cerimonia significativa per la comunità diocesana di Fano Cagli Pergola Fossombrone ebbene abbiamo poi tutta una serie di organizzazioni per quanto riguarda i fedeli che vorranno assistere alla consagrazione episcopale di Monsignor Andreozzi ebbene ci saranno dei pullman che da Fano partiranno per andare a fermo vediamo un attimo l'ufficio pellegrinaggio a tempo libero della diocesi sta organizzando da ieri dei pullman per tutti quelli che vogliono unirsi alla festa con partenze da Cagli piazzale delle Corriere alle ore 13.45 da Fossombrone piazzale delle Corriere alle ore 14 da Fano parcheggio del cimitero alle ore 14.15 si parla ovviamente della domenica 18.00 giugno vediamo ancora le pagine parte il ballo del brodetto invitato anche Lollo Brigida si tratta del ministro che il 4 giugno sarà a Fano e parteciperà al festival del brodetto e poi abbiamo le notizie di cronaca di cui abbiamo già parlato tentata estorsione calugna escort condannata a tre anni e poi anche la baby gang il ragazzo il ragazzo che infieriva su un diciassettenne di colli al metauro che è stato individuato e arrestato dai carabinieri e poi il comune rinuncia a fare la palestra alla piantata per quanto riguarda Urbino i residenti non la volevano al posto del campetto da calcio ebbene costruirla accanto alla scuola costa troppo si rinuncia così a un finanziamento di 900.000 euro ebbene è inutile intestadirsi su una cosa se poi la cittadinanza non la vuole giriamo ancora la pagina e con la polizia degli invasi migliora l'energia il consigliere regionale Luca Serfilippi della Lega con l'approvazione della legge regionale ci sarà più sicurezza in aree come quella del furlo si parla di polizia degli invasi è un investimento in energia questo è tutto al centro della legge approvata nel consiglio regionale firmata dal gruppo della Lega di cui appunto si fa portavoce Luca Serfilippi in uno dei problemi affrontando uno dei problemi di particolare attualità come quelli che sono verificati proprio in questi giorni a causa del maltempo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa come sempre vi do appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto